Un saluto dal Tg della Mobilità. In centro lavori per il parcheggio Arnaldo da Brescia. E' chiusa la corsia sinistra del lungotevere Arnaldo da Brescia tra Ponte Regina Malgherita e Ponte Nenni. Chiusa anche la corsia di Ponte Nenni che porta sul lungotevere Michelangelo e verso Prati. Restano regolarmente aperti, sempre sul lungotevere Arnaldo da Brescia, la corsia di destra e il sottovia. Nel sottovia è chiusa solo la rampa che porta verso Ponte Nenni. E' tutto, appuntamento alla prossima edizione.